Ecco, domenica l'atteso match tra l'Arezzo e la Roma, innanzitutto si va verso un sold out. Penso che ci avvicineremo, sì. Abbiamo venduto molti biglietti. Chi arriverà in città per assistere a questa Michievole? Allora, da Roma e di romanisti da fuori Arezzo ne arriveranno molti, anche moltissimi però romanisti locali, Arezzo, provincia ed intorni. Quindi diciamo metà e metà. Per la Roma si tratta dell'ultima Michievole, prima dell'inizio di campionato, insomma una partita importante. Innanzitutto per noi sono le nostre due squadre del cuore, sia l'Arezzo che la Roma, perché sostanzialmente siamo quasi tutti di Arezzo. Quindi è un'amichevole, fra le tifoserie c'è un buonissimo rapporto, ci aspettiamo di vedere qualche campione che ci fa qualche bel gol e di divertirci. Un'ottima occasione anche per l'Arezzo questa qua. Io penso di sì, sperando che magari ci mandano, parlo da retino ora, ci mandano anche qualche giocatore, qualche ragazzo di quelli bravi. La Roma con la primavera e anche altri hanno buonissimi giocatori. Ecco, comunque è una partita che avrà molti visitatori, che verranno anche da morti, l'OMA Club di tutta Italia. Sì, 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 arriveranno quasi tutti sabato mattina, fanno una mangiata da qualche parte e poi vanno a vedere la partita.